Anche voi subite il fascino del vinile e magari girando per mercatini e negozi di dischi vi sia infilata sotto pelle l'idea di prendere un giradischi? O magari semplicemente avete salvato dalla cantina uno scatrone di vecchi 33 giri dei vostri genitori che rischiano di essere buttati e siete curiosi di riascoltare la musica che sentivate in casa da piccoli? O magari vi è salita la nostalgia di un mondo e un ascolto più lento e impegnativo? Beh, questo video è per voi! Bentornati a Life at Club, il canale più fedele all'alta fedeltà Sempre più spesso riceviamo richieste di aiuto da parte di giovani appassionati di musica che vogliono iniziare ad ascoltare quella che è la sorgente analogica per definizione Il vinile Lungi da me l'idea di volermi dilungare in eccessivi tecnicismi chi è interessato agli aspetti più tecnici della materia può godersi questo video del nostro impareggiabile Fabrizio, proprio qua Voglio concentrarmi sugli aspetti pratici, quotidiani, per far comprendere al meglio a chi è meno esperto cosa vuol dire portarsi a casa un giradischi, come utilizzarlo correttamente cosa aspettarsi dell'ascolto e come interfacciarlo in un impianto magari preesistente Il vinile è un mondo affascinante e complesso, a tratti esoterico Rituali, credenze più o meno fondate, dogmi di ogni sorta, tifoserie e battaglie ideologiche all'interno del solco a 33 giri non manca davvero nulla ma con mente serena e distesa possiamo approcciare questo supporto fisico che nonostante i suoi oltre 100 anni d'età ha ancora molte emozioni da regalarci e non sembra assolutamente interessato ad andare in pensione Partiamo dal disco in vinile il supporto vero e proprio che contiene la musica ne esistono vari formati ma i più diffusi sono il 33 e il 45 giri nomi che corrispondono alla loro velocità di lettura e sono immediatamente distinguibili tra loro per le loro dimensioni evidentemente inferiori per i 45 giri Questi sono i classici dischi che venivano usati nei jukebox, tanto per intenderci a differenza dei 33 giri chiamati anche LP dove LP sta per long plane appunto perché grazie al maggiore spazio a disposizione contenevano più canzoni e quindi sonavano più a lungo Supponiamo che siete in un mercatino dell'usato e trovate un disco del vostro artista preferito prima di comprarlo ad occhi chiusi vale la pena ispezionarlo La qualità e lo stato di conservazione dello stesso sono fondamentali per una buona riproduzione Infatti ricordiamo che nei microscopici solchi incisi sulla superficie troviamo l'onda sonora analogica nuda e cruda che la puntina andrà poi a leggere È importante quindi sincerarsi che il disco sia in buono stato senza graffi eccessivamente profondi pena disturbi nell'ascolto e specialmente avremo il classico disco che salta Non è un modo di dire, letteralmente la puntina salterà fuori dal suo solco in corrispondenza del graffio rendendo un disco potenzialmente inascoltabile Qualche strisciatina superficiale invece, specialmente su dischi datati e usati, è inevitabile ma generalmente non rappresenta un grosso problema nella riproduzione ma è sempre bene accorgersene per tempo e soprattutto pagare il prezzo giusto Io stesso mi sono comprato serenamente dei dischi in condizioni pietose a pochi spiccioli giusto per il gusto di possederli più che di ascoltarli veramente basta esserne coscienti A questo punto abbiamo bisogno del giradischi il cui compito è quello di starare le informazioni impresse sul disco nella maniera migliore possibile e fornirle al preamplificatore Il giradischi si compone di una base di un piatto sul quale posizioniamo fisicamente il disco e di un braccio alla cui estremità troviamo la testina Vi sono due grandi famiglie in cui si dividono i giradischi a cinghia e a trazione diretta in inglese direct drive Ancora una volta, come spesso accade nell'audio non c'è un meglio o un peggio assoluto In ambiente domestico generalmente sono più diffusi e preferiti quelli a cinghia che attraverso una puleggia alla quale è collegata appunto la cinghia fanno ruotare il piatto alla velocità desiderata Il vantaggio principale è quello di trasferire meno vibrazioni al piatto risultando più silenzioso nell'ascolto I giradischi a trazione diretta invece hanno il motore collegato direttamente al piatto Anche se potenzialmente possono trasferire maggiori vibrazioni alla testina sono più scattanti e reattivi Non è un caso che siano anche più apprezzati dai DJ e che vengano utilizzati per il mixaggio Indipendentemente dalla tipologia di giradischi che sceglierete è importante metterlo nelle migliori condizioni di esercizio Deve trovarsi perfettamente in piano su un mobile quanto più possibile stabile e inerte Ogni colpo e vibrazione che arriva al mobile sul quale è posizionato il giradischi viene rilevato dalla testina e riprodotto più o meno intensamente E sì, anche le vibrazioni delle casse stesse che suonano lì vicino possono innescare rimbombi rientrando nella testina del giradischi che si comporta a tutti gli effetti come una sorta di microfono Per una corretta riproduzione e soprattutto per non rovinare i nostri amati e costosi dischi è importante che il braccio sia settato correttamente Vi sono diverse regolazioni possibili per far sì che la puntina tracci con precisione il solco l'inclinazione in avanti e indietro dello stilo, chiamata azimut l'anti-skating, ovvero il bilanciamento che serve per contrastare la forza centripeta che agisce sul braccio in lettura e poi troviamo il contrapeso che permette di regolare il peso di lettura, ovvero la pressione che la puntina esercita sul disco Ogni testina è progettata per lavorare a un preciso valore di riferimento, espresso in grammi e questo valore va rispettato Applicare un peso eccessivo, infatti, può tradursi in un consumo e deterioramento sia della testina stessa che dei nostri preziosi dischi che verranno letteralmente arati rovinandosi irrimediabilmente Al contrario, un peso eccessivamente basso sulla testina la renderà imprecisa e soggetta a saltare fuori dal solco causando potenzialmente serigraffi e, ancora una volta, deterioramento prematuro Tutte queste regolazioni, se non siete esperti e non avete gli strumenti per farle lasciatele fare a un professionista Parlando di testine, è bene ricordare che ne esistono anche qui di due tipi, due macrofamiglie A magnete mobile, indicate come MM, moving magnet e a bobina mobile, le famose MC, moving coil Normalmente, la maggioranza delle testine di primo equipaggiamento così come quelle da DJ, ma anche moltissime testine Hi-Fi di alto livello sono di tipo MM Questo perché offrono un segnale di uscita più alto rispetto all'MC ovvero sono più facili da amplificare Le testine moving coil dal canto loro hanno una sensibilità maggiore e permettono una riproduzione e quindi un suono ancora più dettagliato e preciso ma necessitano di una preamplificazione molto curata Ecco perché spesso sono quelle preferite dagli audiofili più incalliti e le troviamo montate sui giradischi di fascia alta e in generale nell'i-end Probabilmente vi starete chiedendo cosa si intende per preamplificazione Lo vediamo subito Ai meno esperti sarà sicuramente capitato di collegare il giradischi direttamente a un normale ingresso linea dell'amplificatore accendere tutto e non sentire niente, o quasi Questo perché il segnale emesso dal giradischi è molto più debole di un segnale emesso ad esempio da un lettore cd Ecco perché il giradischi necessita sempre di uno stadio di preamplificazione chiamato anche pre-fono Alcuni amplificatori hanno uno stadiofono integrato e infatti troveremo sull'amplificatore l'indicazione di ingresso fono con la classica vitina dove collegare la massa È a questo ingresso e solo a questo ingresso che dobbiamo collegare i giradischi E se il mio amplificatore non ha l'ingresso fono? Allora servirà un pre-fono esterno Ce ne sono ovviamente di ogni qualità e per tutte le tasche ma attenzione è un componente molto importante su cui non vale la pena risparmiare eccessivamente Infatti il pre-fono si occupa non solo di preamplificare il segnale della nostra testina ma applica anche una riequalizzazione del segnale Infatti per essere registrata sul vinile l'onda sonora viene diciamo compressa, schiacciata per essere letta più facilmente Il pre-fono la riequalizza ripristinandone la dimensione originaria per darci tutta la dinamica che inevitabilmente altrimenti andrebbe persa Lo stadiofono è anche responsabile del rumore di fondo È vero per qualcuno è parte stessa della magia del vinile ma ricordiamoci che lo scorrere della puntina sul disco genera inevitabilmente un rumore di fondo che se risulta troppo alto può inficiare la qualità dell'ascolto nascondendoci dettagli e sfumature all'interno di un brano Ecco perché i pre-fono di alto livello offrono un isolamento superiore e un percorso del segnale curato al massimo per amplificare solo il segnale musicale filtrandoci ad esempio le frequenze subsoniche suoni che non percepiamo ma che vengono riprodotti dai diffusori generando ampie escursioni negli altoparlanti che possono anche rivelarsi dannose è bene segnalare che negli ultimi anni sono arrivati molti giradischi sul mercato dotati di pre-fono integrato rendendo il vinile molto più fruibile e immediato rispetto al passato è una bella comodità non c'è a che dire a questo punto abbiamo fatto tutto abbiamo preso il nostro disco l'abbiamo messo sul nostro bel giradischi settato, tarato e collegato correttamente all'amplificatore abbassiamo la puntina sempre tramite l'alzabraccio mi raccomando e ci sediamo comodi in poltrona cosa ci aspetta all'ascolto? il vinile ci regala un suono avvolgente morbido e rilassato generalmente tendente al caldo ma senza eccessi è il suo fisiologico limite nella riproduzione delle frequenze più alte parlo di oltre i 14-15 kHz che ci regala questa sensazione di maggiore calore che molti attribuiscono intrinsecamente al supporto fisico ah, se invece di una riproduzione fluida e piacevole sentite una valanga di crepiti e scopietti vari sappiate che sono dovuti alla sporcizia depositata all'interno dei solchi polvere e residui che inevitabilmente finiranno sulla vostra puntina che andrà pulita di tanto in tanto proprio come i vostri dischi le comuni spazzolini in fibra di carbonio danno già buoni risultati ma per un disco datato e vissuto affidatevi alle macchine lavadischi professionali tra l'altro è un servizio che i migliori negozi di dischi offrono a prezzi ancora umani sentirete che differenza cari fighters, non so a voi ma a me è venuta voglia di mettere un disco sul piatto e con le libidinose meraviglie che girano qui nei fight è una vera sfida riuscire a rimanere lucidi come si fa a non subire il fascino di un'opera d'arte come il master deck di Mofi io sono Matteo e aspetto le vostre esperienze col vinile qui nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale ci aiuterete a lavorare meglio e come sempre vi aspettiamo sempre qui al ritrovo di appassionati di musica e di alta fedeltà che è la iFight Club lunga vita e rock'n'roll grazie a tutti